Siamo veramente fieri di questa corsa che abbiamo voluto fortemente perché l'atletica era poco presente alla festa dello sport e da quest'anno è FIDAL, quindi abbiamo istituzionalizzato la nostra gara, la nostra corsa abbiamo un grande sponsor che è sempre Decathlon che ci fornisce i pacchi gara, i premi e quindi è un grande onore averlo e poi abbiamo anche Body World che ha voluto affiancarci in questa nostra avventura e ha voluto partecipare ai premi dei nostri corridori La soddisfazione più grande ovviamente sono i sorrisi dei tantissimi bambini che sono venuti qua È stata meravigliosa, hanno appena corso i bambini, sono stati strepitosi, ci sono stati bambini veramente piccoli che all'arrivo sfiniti non avevano forza di arrivare a tagliare al traguardo ma appena hanno sentito tutti che urlavano e incitavano si sono trasformati, la loro espressione di fatica si è trasformata in un sorriso ed è stato solo quello bastava per tutta la fatica nell'organizzazione fatta e comunque adesso fra poco partono gli adulti, tutto è stato gestito non solo da Porto Antico ma anche dall'atletica Frecesena che ha dato veramente un grande supporto a tutta l'organizzazione sono tutti questi omini con la maglia rosso che ogni tanto si vedono passare alle sue spalle e quindi è stato veramente bello organizzarlo, è stato ancora più bello vedere come sta andando